24 dicembre stasera è la gran sera è una telecamera quella? voglio riprendere tutta la notte anche mentre dormiamo così poi quando lo riguardiamo capiamo bene cosa succede latte e biscotti? eccoli dormiremo qua in salotto di solito è qui che lasci i regali minchia ma ti immagini se esiste veramente? faremmo un sacco di soldi la finestra è chiusa la porta è chiusa a chiave l'allarme è inserito se Babbo Natale esiste lo scopriremo stanotte che cos'era quella cosa? che c'è? cos'è quello? un dono! Stefano sono finiti i biscotti e anche il latte è tutto a posto è tutto a posto c'è qualcuno qui? forse di là eccolo eccolo che sta succedendo? oh mio Dio oh mio Dio oh mio Dio oh mio Dio bel Natale del cazzo oh mio Dio